I medici di base non hanno più ricambio generazionale. È una carenza divenuta cronica tanto nazionale quanto locale, quella che si sta acuendo dal 2021 e che rischia di diventare sempre più problematica con il passare degli anni. Allo stato attuale nelle Marche si rischia infatti di arrivare ad un 2024 con 107 medici di base in meno che raggiunti 70 anni di età hanno diritto al pensionamento. Il problema è che all'uscita non stanno corrispondendo le nuove entrate ed è un allarme lanciato in tempi non sospetti anche dal governatore Acquaroli che ha ricordato come in questo 2023 saranno 110 i bandi che daranno l'opportunità a giovani medici di essere assunti e per ogni bando ci saranno 75 posti ma non arrivano a saturazione e il 30% dei partecipanti decide spesso di cambiare specializzazione non accettando il posto a causa anche del problema compensi. Al tirar delle somme sono 150.000 i marchigiani che rischiano di rimanere senza medico di base se non si inverte la rotta e già al termine del 2022 si è rilevata una carenza di 147 medici di cui 31 nell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro.